Siamo un paese vecchio, di vecchi con idee vecchie. Allora gli ho detto, senta Draghi, lei che è un ragazzo di 74 anni, avrà anche le palle piene, che è stato da Schroeder, l'America, e alza lo spread, e abbassa lo spread, ma che vita ha fatto? Allora, combattiamo e facciamo questa roba qua. Prima non deve entrarci la Lega, perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto, non lo so, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, è stato, mi ha dato ragione su tutto, ha detto d'accordo su questi temi, su tutto. Però io, un momento, domani votare su queste robe, aspettiamo un attimo, perché lui adesso domani non ha finito le conferenze. Aspettiamo lui che pubblicamente dirà cosa vuol fare, perché non ha ancora bene le idee chiare, ma non ce l'ha nessuno le idee chiare qua, siamo in un coma 22, anche lui è pieno di disoluzioni. Non tutti dicono, beh, se non ha...